morning buongiorno guys, oggi, oggi non ho proprio voglia indovinate che shift faccio oggi, che torno faccio ancora una volta 2.11 non ne posso più non ne posso più, sto solo chiudendo questa settimana I can't deal with that anymore comunque, benvenuti in un nuovo vlog stavo ritirando i pani in questo momento e stavo rifacendo il letto ma adesso voglio andare a fare un attimo colazione perché ho fame oggi è proprio male male, devo uscire, sono ancora in pigiama e tra 20 minuti devo uscire di casa, il tempo è bruttissimo, oggi è brutto, mi piace vedere veditemi con quale concezione io devo uscire ieri mi sono anche cambiato gli orecchini ho comprato due orecchini simili però non mi convincono tanto e la signora me l'aveva detto mi ha fatto, guarda che questi qua non sono argentati, non sono come li vuoi tu, questi qua sono più scuri però la luce mi ha un pochino imbrogliato perché questi qua sono più tendenti al grigio scuro perché sono in titanio e ho fatto, no it's fine, sono bellissimi me li sono messi alla luce, li ho visti, ho fatto, shit non so come li voglio io, però it's fine ho provato ad ascoltare i commessi che magari ne sanno un po' più di me ogni volta la parte più difficile è sempre l'uscire di casa una volta che sei uscito ormai stai fuori, ci devi andare però sì mi serve grinta per questa giornata, quindi gasatemi per favore perché non so come ci arrivo alla fine oh mio dio guys, sono in lunch al momento mi sono andato a mettere qua in un piccoletto di Oxford Circus perché oggi è super 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 busy comunque se sto rispondendo ai commenti è l'ultimo video che ho pubblicato è sempre un momento bello quando vedo dei feedback e quando ho la possibilità di parlare con voi direttamente il lunch è quasi finito, finisce tra 20 minuti allora finisco di rispondervi, finisco a rispondervi e poi ritorno buonasera guys, buonasera e benvenuti alla fine di questo vlog il vlog di oggi oggi penso sono stato molto cattivo nel vloggare perché non penso che abbia vloggato così tanto però oggi è stata una giornata molto frenatica quindi sì, devo migliorare ma come ho detto questa settimana non mi serve a sperimentare e a capire come devo fare e come non devo fare comunque ritornando al discorso dei commenti ho visto che mi avete risposto alla domanda se volete i vlogg ma è molto interessante questa cosa mi fa tantissimo 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 piacere vi giuro sono troppo contento però fin da rifarò un altro sondaggio qui su youtube sulla sezione della community farò un altro sondaggio per vedere meglio quante persone sono interessate però grazie, grazie, grazie mille per aver mostrato anche un minimo di interesse in questa cosa sono veramente, veramente tanto, tanto contento non me l'aspettavo ve lo giuro e sì adesso sto pubblicando sto pubblicando sto finendo di editare un video che in realtà voi avete già visto e sono le e l'una e l'una di sera e e domani alle 10 inizio oggi ho finito alle 11 quindi il tempo di arrivare a casa è la sera fatta a mezzanotte e il tempo di cenare fai due chiacchiere con la tua bestie si è fatta l'una quindi adesso mi metto qua finisco di editare questo qui poi domani verso l'8 mi devo risvegliare e si inizia tutto da capo però sì ora mi metto qui e non vi saluto adesso perché penso ci rivediamo più tardi più bene fisco di fare tutto quanto penso vi do alla buonanotte mi metto qui Grazie a tutti.